Gambele di Santa Margherita con capolato di verdure e salsanacroburcio per lei e una marinara di pesce in foglio con verdure croccanti. Buona continuazione. Dove vorresti andare a vivere? Anche a me piacerebbe Londra. C'è uno studio di allogamento che potrebbe aver piantato. E poi la città mi piace tantissimo. La città mi piace tantissimo. Buonasera signora. Antonio, ti presento Rory, la nonna di Edo. Emma la conosci già? Salve signora, come va? Un pranzo eccellente. Ho sentito del progetto che avete con mio nipote. Sarei felice se vorrete consultarmi sugli arevi. Grazie signora e grazie di essere venute. Benvenuta signora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.